Noi quando diciamo del Movimento Liberazione Italia noi entriamo in azione e puliamo i territori, qualcuno pensa che il generale sta bestemmiando, no io non bestemmio, sono stato capitano dei Carabinieri, mi hanno mandato in una compagnia dei Carabinieri giù in Calabria, mi hanno detto che c'era un paese dove c'erano dei maleduitosi, io ogni mattina chiudevo il paese e lo circondavo e perquisivo tutte le abitazioni, chi scappava dalla finestra, chi buttava le pistole, dopo due mesi se ne sono andati, il suo capitano rompe le scatole, hanno lasciato il territorio, ma ci vuole tanto per pulire il territorio, ma se questi sono d'accordo i politici, con loro si prendono i voti, l'andrangheta in Calabria fa lavorare il 27% dei giovani, ma che siete ciechi, non vedete, non osservate, signori quando io vi dico ed ecco l'appello che faccio agli amici veneti perché io o sono stato qui, io mi sono laureato a Padova, ho comandato la compagnia a Pordenone, cari amici veneti, l'11 settembre è una data importante, li cacciamo via, lo volete capire, se questi rimangono siamo rovinati.